Recenti episodi di cronaca, che purtroppo hanno interessato anche la nostra regione, dimostrano quanto sia importante intervenire tempestivamente e con criterio per evitare il soffocamento dei bambini. I dati tuttavia dicono che nel 58% dei casi ci si trova in una condizione di totale impotenza, perché non si è correttamente informati sulle manovre di emergenza da effettuare per evitare che i piccoli soffochino. Il corso organizzato a Fornelli è servito proprio per chiarire tanti dubbi e per fornire altri consigli utili. In Italia ci sono ancora 50 bambini che muoiono in un anno per un'ostruzione delle vie aeree. Grazie alla Salvamento Academy abbiamo avuto questa opportunità di diventare istruttori e di divulgare questo messaggio il più possibile. Sono delle semplici manovre che ci sono state insegnate e che noi vogliamo insegnare agli altri. Una che viene usata maggiormente è la manovra di Emlich. In questa manovra viene inserita il pollice alla fine del processo xifoideo con un pugno sotto. Vengono eseguite 5 compressioni per fare in modo che questo corpo estraneo possa uscire fuori. Sono manovre che possono seguire tutti. L'incontro promosso dalla Fondazione Neuromed in collaborazione con le associazioni Segui il tuo cuore e Salvamento Academy ha riscosso ampio interesse da parte dei genitori e di tutti coloro che hanno contatti diretti con i bimbi, compresi nonni e insegnanti. Parte dal basso, parte da esigenze concrete. Si parla di manovre di salvataggio per i più piccoli. E ahimè, credo che insomma dovremmo anche abituarci un pochino al fai da te, perché vedo che qui di problemi sul tappeto ce ne sono tante. I cittadini percepiscono molto questa carenza soprattutto di garanzia per quanto riguarda l'emergenza. Una conferenza stampa fatta dai nostri parlamentari, quindi ad altissimo livello, che proponevano, propongono un policlinico universitario qui nel Morise. E mi sembra un'idea straordinaria. Peccato che ci stiano chiudendo gli ospedali. Peccato che non si pensi invece a fare rete davvero su quelle che sono le strutture già esistenti. A margine dell'incontro, il sindaco di Fornelli, Giovanni Tedeschi, ha annunciato l'intenzione del comune di acquistare defibrillatori per tutte le scuole del paese.